Amici di D-Day ben trovati per un nuovo video, qua dietro, dietro a questa tenda abbiamo appena assistito a una demo veramente pazzesca che mostra come sono fatti veramente i tv mini led e perché sono superiori ai normali tv lcd quindi non perdetevi questo video, dopo la sigla Amici di D-Day come vedete siamo ospiti ancora una volta di TCL ci troviamo in Polonia dove c'è il quartiere generale europeo nonché le fabbriche dove vengono pronti i loro tv e siamo qui per un evento dove è stata presentata la line up completa del 2023 di tv alcune innovazioni tecnologiche legate alla nuova piattaforma pentonic 700 ma soprattutto come ci accingiamo a vedere si è tenuta una demo che fa vedere l'evoluzione della tecnologia di retroaluminazione degli lcd quindi dai primi lcd led fino ai mini led questo perché TCL quest'anno ha annunciato due nuovi prodotti di fascia alta il C95 e la serie X95 serie che sono praticamente interessanti perché spingono più in là quello che è possibile fare in termini di zone di local dimming indipendenti e anche di luminosità di questi nuovi pannelli ma entriamo nella sala perché c'è una demo veramente interessante che ci tenavamo a mostrarvi in questo video eccoci dunque nella sala demo che è allestito TCL dove ci fa vedere quanto sono andati avanti, quanto sono stati i progressi sul fronte alla retroaluminazione led negli anni quello che vedete qua alle mie spalle è uno spaccato il nuovo X95 è il top di gamma indicelli quest'anno mini led, quello famoso per essere il primo con 5000 zone indipendenti di local dimming e 5000 nita di luminosità di picco in realtà è capace di stare anche a 2000 nita sostenuti e poi 5000 con una specie di boost ma quello che è impressionante vedere qui in questa demo è appunto la retroaluminazione e come funziona lo schermo qui dietro infatti ha 5000 zone di local dimming e soprattutto un livello, una granularità di regolazione della luminosità che praticamente permette già di riconoscere l'immagine rispetto al monitor di riferimento con l'immagine completa che è una scena di Game of Thrones molto scura e quello che si vede invece con la retroaluminazione qua dietro senza il pannello LCD davanti in realtà TCL ci ha detto che qui per questa demo praticamente è stato messo un filtro ND davanti allo schermo per abbassare l' luminosità dei led perché sono talmente luminosi, sono dei led blu, sono talmente luminosi che praticamente senza questo filtro che è stato posto davanti al televisore praticamente sarebbe stata un'immagine abbagliante che ci avrebbe accecato i led sono blu perché la tecnologia di led, almeno su questo modello, utilizza appunto la luce blu che passa attraverso un filtro arricchito con quantum dots poi per creare la luce bianca facendo una conversione dal blu verso il basso in termini di frequenza aggiungendo le componenti quindi verde e rosse che insieme al blu vanno a creare questa luce bianca con delle linee spettrali molto pure e che permettono di avere un gamut più ampio, quindi un più ampio gamma cromatica dell'immagine appunto riprodotta quindi un maggiore volume colore soprattutto grazie alla spinta luminosa che sono in grado di restituire questi mini led per contro da questo lato è possibile vedere invece quella che è stata la storia della retroiluminazione led che si è partiti praticamente prima col famoso direct led senza alcun tipo di local dimming semplicemente delle lampadine led che sono andate a sostituire le classiche lampe da fluorescenza che una volta avevano i pannelli LCD poi successivamente è stata intensificata la griglia di led dietro allo schermo e è stata aggiunta la possibilità di pilotare indipendentemente ciascun gruppo di led in modo tale di andare a regolare l'immagine in termini di contrasto andando a appunto dimmerare i led a seconda di quella che era l'immagine da visualizzare quindi i led che andavano piano piano a spegnersi nelle aree scure dell'immagine e led che invece stavano più brillanti laddove l'immagine doveva essere appunto più bianca quindi più brillante mano a mano sono aumentate il numero di zone fino a passare da praticamente poche decine a centinaia e poi con i mini led questi diventano migliaia grazie a led sempre più piccoli c'è stata una fase intermedia in cui praticamente si raggruppavano più led insieme a gruppi per formare queste zone ma poi invece sul per esempio sul nuovo x 95 da 5.000 zona praticamente una zona costruita da un led solo molto luminoso o al massimo una sull'azienda sul c95 su una coppia di led raggruppati in un unico pacchetto la demo appunto è impressionante perché è incredibile come già 5.000 zone indipendenti e questo livello di dinamica nella regolazione della luminosità di ciascuna zona permette praticamente di avere un'immagine simono cromatica tutta blu ma è possibile già quasi distinguere le sfumature ad esempio sui volti e riconoscere molto bene quello che sta avvenendo all'interno della scena mentre se guardiamo ad esempio le vecchie rete illuminazioni tra il primo esempio di local dimmi dove praticamente non è possibile assolutamente riconoscere la scena alle altre dove magari è possibile già distinguere qualche forma ma non con il libero dettaglio che è possibile su ad esempio un televisore di questo tipo e questa invece è la motherboard che c'è all'interno dell'X95 in realtà è una piattaforma comune a tutti gli ultimi modelli che ha annunciato una seconda parte dell'anno TCL basato sul nuovo chip di Mediatek Pentonic 700 sotto questa piastra ovviamente c'è il processore e vedete che su questa motherboard troviamo tutto, troviamo tutta la scheda degli ingressi, i sintonizzatori, lo slot common interface e appunto il SOC che si occupa di tutte le funzioni del TV quello che abbiamo visto aperto era appunto l'X95, il top di gamma di quest'anno di TCL mini led assurdo per numero di zone e luminosità non è ovviamente l'unico 98 pollici disponibile sul mercato da parte TCL perché TCL ha attualmente la più ampia gamma di formati extra large qui pieno di 85 pollici e di 98 pollici appunto ricordiamo che in Italia TCL è già presente sul mercato con tre modelli quello dello scorso anno ma ci sono anche il P74 che è il nuovo entry label direct led appunto 98 pollici e poi c'è la serie C80 che qua alle mie spalle spero che si veda anch'essa mini led ad alta luminosità, anch'essa disponibile ai 98 pollici anch'essa con la nuova piattaforma Pentonic 700 e tutte le novità presentate da TCL quest'anno continuate a seguirci mi raccomando, se vi piace questo video comunque per rimanere aggiornati su nostri video in generale di tutti gli argomenti che trattiamo iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati ogni volta che abbiamo pubblicato un nuovo video qui da Barsavia è tutto, alla prossima, ciao!